Buongiorno dalla redazione del Tg della Mobilità, gli aggiornamenti sul trasporto pubblico in apertura di questa edizione. Deviazione di percorso per la linea 982 in direzione del capolinea di viale della 17esima Olimpiade per un cantiere sulla rete del gas in via Aurelia Antica tra via Spina e via di Villa Betania. I bus percorrono via Leone XIII e via Gregorio VII. Intanto a Mossacciano prosegue la deviazione della linea 778 così come la chiusura di via Iachino e dalla rotonda di via di Decima i bus proseguono per la Colombo e via Borghi. Le altre notizie dal 10 al 25 agosto la metro A sarà sostituita con i bus nella tratta Termini Battistini per intensificare i lavori sull'armamento e nelle stazioni. Il resto della linea sarà in servizio con le consuete modalità. Inoltre dal 19 agosto al 7 novembre per anticipare un intervento che era in programma per il 2025 chiuderà la stazione Furio Camillo. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.